ciao a tutti sono alessandra per chi non avesse mai visto i miei video faccio i video su tutto oggi sono qui a rispondervi perché siete in tanti che me lo chiedete vi rispondo con un video su youtube come ho fatto a dimagrire adesso faccio un mio tipico pranzo oggi mangio il pollo ovviamente non lo mangerò tutto ma ne mangerò due pezzi prima del pollo però come vi ho detto mangio sempre qualcosa di crudo quindi oggi mangio due gambi di sedano e poi l'insalata con la cipolla insalata mista con la cipolla questo ragazzi è il mio pranzo di oggi ho fatto anche un altro video dove trovate la mia colazione e vi assicuro che funziona perché non mangio più sporcizie cibo spazzatura mi raccomando iscrivetevi sul mio canale e mettete un mi piace tanti mi piace tanti nuovi video un bacio al prossimo video